Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Presidente, la presenza oggi a Sciacca dell'Unione degli Ordini Forensi Siciliani, testimonia un grande attaccamento, un interesse verso questo presidio giudiziario? Assolutamente sì. Intanto il presidio giudiziario di Sciacca ha una sua storia importante e dobbiamo sempre più valorizzarla. E poi noi come avvocati riteniamo che il giudice di prossimità sia una cosa assolutamente fondamentale, soprattutto in Sicilia dove c'è voglia e sete di giustizia. I tribunali sono una componente importante di questa voglia e di questa sete di giustizia e quindi noi testimoniamo di persona accanto al Presidente Livio la voglia di giustizia dell'avvocatura ma anche la voglia di giustizia dei cittadini. Spesso questi tribunali si trovano alle prese con difficoltà di funzionamento determinate, soprattutto per quanto riguarda Sciacca, da un numero non adeguato di magistrati, mentre sappiamo che ad esempio per quanto riguarda i cancellieri recentemente c'è stata un'importante in missione e in servizio. Ecco questa richiesta che parte anche dagli stessi magistrati e facciamo riferimento ad esempio al Presidente del Tribunale di Sciacca che l'ha sempre posta in risalto, in che maniera può essere sostenuta dall'avvocatura? Ma guardi l'amministrazione e la giustizia è per l'avvocatura un momento fondamentale di lavoro e di vita. Noi siamo accanto alla magistratura allora quando la magistratura richiede non solo personale ma anche mezzi, quindi sostanzialmente somme di danaro necessarie per portare avanti la macchina e la giustizia. Guardi in questo momento poi l'Italia sta attraversando un momento particolarmente delicato e importante. Una per tutte il Piano Nazionale di Ripresa e Residenza prevede lo stanziamento di 4 miliardi di euro a favore della giustizia. Questi 4 miliardi devono essere investiti in maniera adeguata. Presidente, ci sono concrete possibilità a suo parere che si possa arrivare in tempi brevi anche ad un rafforzamento del presidio giudiziario di Sciacca? Come le sa dottore Pantano stiamo lavorando allacremente per questo progetto, un progetto che portiamo avanti da circa tre anni con il nuovo Consiglio dell'Ordine e speriamo che a più presto le istanze possano essere recepite. Lei in concreto verso quali istanze ripone un maggiore interesse ed è più probabile che possano essere accolte quelle che riguardano un ampliamento del circondario giudiziario o un rafforzamento degli organici, ad esempio anche l'ampliamento del numero dei magistrati che consentirebbe l'istituzione di una nuova sezione? Sia l'uno che l'altro perché come le sa abbiamo lavorato per l'ampliamento del circondario e abbiamo le delibere comunali, mentre per quanto riguarda l'ampliamento della pianta organica è una richiesta forte all'avvocatura e anche all'ultimo congresso è al primo punto dell'ordine del giorno. Secondo lei che concrete possibilità ci sono? Diciamo che stiamo interloquendo, spero a più presto che possiamo avere delle belle e ottime risposte. Diciamo che stiamo interloquendo, spero a più presto che possiamo avere delle belle e ottime risposte.